balconi tv messina oggi con i sed site project ciao ragazzi ciao benvenuti o cosa ci suonate molly buon divertimento do you feel alone at this time in this world and that you're running fast fast as you can oh i miss all the pretty things we did together oh i will follow in your bow oh my agile little squirrel looking for all your bones in my joyful garden especially when it's laughing down when I can oh 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 Do you feel alone at this time in this world? I'll get you riding fast, fast, as you can. Oh, I will fall when you're above, oh my giant little squirrel. Oh, I will fall when you're above, oh my giant little squirrel. Looking for all your bones and much I've forgotten, especially when you slam down with my cat. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Grazie a tutti Grazie ragazzi E allora, Molli, chi è Molli? Molli era il mio cane È una canzone dedicata a lei, abbastanza triste Sì? Che fino a poi posso chiederti? È morto, semplicemente, aveva una certa età Ok, ok Molli però è anche il primo singolo del vostro album, o no? Sì, sì, è il nostro primo singolo Cioè è uscito, diciamo, il primo video Ok, infatti è il video Esatto Come nascono sia le vostre canzoni E anche magari anche questo video Magari prima parliamo delle canzoni e poi parliamo del video Ok, le nostre canzoni nascono in modo abbastanza naturale Porto di solito una linea di voce e chitarra a domenico in sala prove E poi, che di solito è senza parole Quindi è roba di... E poi arriviamo e, diciamo, riusciamo ad arrangiarle insieme È un lavoro che si fa sempre al 50-50 E esce fuori un pezzo E riguardo il video è stata un'idea della nostra produzione di Bombadischi Nel caso specifico di Lorenzo Muto, Daniele Dandeddi e Davide Caucci Che ebbero appunto l'idea di fare questo video e basarlo tutto sullo sdoppiare E infatti ho visto, è tutto giocato su questo Esatto Molto bello, molto interessante Ne fumo molto soddisfatto Per te lo sbaglio sono due però In quel caso ci sono due persone o non li ricordo male io Sì, sì, perché noi ufficialmente siamo un duo Però poi, dato che questo disco è abbastanza complesso nell'arrangiamento Più che complesso ci sono tanti strumenti Abbiamo, appunto, ci siamo aiutati con Claudio Che è il nostro tutto a fare Grande E questo quindi, ricordiamo però il titolo anche dell'album Winter Whales War Che è uscito a febbraio del 2013 per Bombadischi Ok E quindi adesso, per Adesso Tour Avete in mente di fare qualcos'altro? Oltre ai tour? Sì, adesso suonare il più possibile Come stiamo facendo da febbraio a questa parte E adesso, nei prossimi mesi, entreremo in studio Per registrare un nuovo piccolo EP in acustico Quindi in questa veste Bene, ok Un modo per seguirvi su internet? Certo, abbiamo Facebook Che appunto basta cercarci Set Site Project su Facebook E poi abbiamo Bandcamp MySpace Buon vecchio MySpace Ormai nessuno ci va più Che bello E niente, insomma, abbiamo tutte le piattaforme Twitter, Facebook, SunCloud, Bandcamp Insomma, si è dappertutto Bravi Ok, vi ringrazio ragazzi per essere stati con noi Grazie a voi Io ringrazio quelli che ci hanno seguito E vi do appuntamento al prossimo Balcony TV Messina Back in ETV Oh! 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 Oh!